Ebbene ragazzi, eccoci di nuovo ritrovati, secondo video di questo sabato 2 di settembre del 2023, con il video di questa mattina ci siamo messi definitivamente alle spalle il calciomercato, questa sessione di calciomercato, giugno, luglio, agosto, che è stata molto molto impegnativa e a tratti stressante per noi. Detto ciò partiamo con la nostra intro. Ben trovati a tutti voi, vi ricordo che in descrizione ad ogni video trovate tutte quelle che sono le informazioni principali, le informazioni generali riguardanti Canale Forza Lazio, ogni tipo di riferimento che può andare dai social al nostro blog canaleforzalazio.com, la nostra mail per contattarci, insomma tutte le informazioni più importanti che riguardano appunto il nostro mondo le trovate tutte scritte in descrizione ad ogni video. Allora ragazzi ve lo dico subito, ci sarà come di consueto il video delle 15, alle 18 andremo a commentare quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni della Serie A, se non va in onda il video delle 18 e perché alle 19 e 30 farò una live per commentare le formazioni ufficiali. vediamo un attimino come si evolve la giornata. Entriamo un pochino nel mood di questo Napoli-Lazio, non prima di aver dato un'occhiata a quello che è successo ieri, con un Berardi che rientra in squadra e decide la vittoria del Sassuolo, 3-1 contro comunque un buon Verona. Nella gara della sera il Milan ha dimostrato il suo grandissimo momento di condizione, terza vittoria consecutiva andando a vincere anche allo Stadio Olimpico contro la Roma dell'esordiente Lukaku. E adesso tocca a noi, adesso tocca a noi ragazzi. se da una parte del Tevere c'è una squadra che piange per appena un punto raccolto in tre partite, oggi c'è una Lazio che può correre il rischio di andare a giocare a Napoli e di ritornare da Napoli con zero punti in classifica. chiaramente nella nostra testa, come pure la logica delle cose ci portava a riflettere in quale direzione i punti li dovevi fare a Lecce e li dovevi fare col Genoa. Parliamoci chiaro, non devi stare a fare troppi giri di parole, perché se oggi ti presentavi con sei punti a questo primo tuo big match di giornata, magari ci arrivavi anche con più leggerezza, con la consapevolezza che potevi anche permetterti di perdere una partita. Oggi chiaramente vai ad affrontare i campioni d'Italia con altro spirito, quasi con l'obbligo di andare a fare risultato, di provare quantomeno a smuovere questa classifica, un punto, cercare di farcela. Allora, io lo dico come lo dissi l'anno scorso, io dico che non si parte sconfitti, ok? È inutile, mi rendo conto, il pessimismo, la scaramanzia, mettetela un po' come vi pare, però tutte le partite mi ritrovo a dire quello che dicevo un anno fa a Giacomino, a pochi giorni prima di Napoli-Lazio, quando dicevo Giacomino, le partite, poi di quello che te pare, può giocare pure il City contro la Lazio, ma tutte le partite cominciano da zero a zero e stasera è la stessa cosa, ci aspetterà uno stadio Maradona tutto esaurito, ci aspetteranno dei tifosi euforici per questa partenza sprint dei campioni d'Italia, ci aspetterà una gara molto complicata, ma non partiamo sconfitti, quantomeno andiamo a giocarcela, poi il campo se dirà che il Napoli è più forte di noi o nettamente più forte di noi, bene. A cosa mi appello? Andiamo un attimino ad analizzare il Napoli, il Napoli con Garzia è cambiato davvero poco, forse da quel poco che ho visto in queste prime battute della stagione è un Napoli che prova a verticalizzare un pochino di più il gioco rispetto al fraseggio di Spalletti per poi partire con quei fendenti in profondità che tagliavano in due le difese avversarie. Adesso la sensazione, è l'unica piccola differenza che vedo nel Napoli di quest'anno, ma vi ripeto è un'analisi questa molto superficiale perché stiamo parlando di due partite, mi dà l'idea di essere un Napoli che va un po' più in verticale, con più velocità rispetto a prima. È un Napoli che negli undici ha cambiato poco, praticamente una persona sola è andato via Kim e hanno preso un altro difensore al suo posto, quindi è un Napoli che parte da delle basi consolidate, ma anche la Lazio non è da meno, Sarri già lo scorso anno ha dimostrato come imbrigliare i campioni d'Italia, vi ricordo che la Lazio l'anno scorso ha vinto a Napoli, secondo me la partita quella a livello di lettura tattica quella può essere con un Napoli che farà la partita, con un Napoli a tratti arrembante e la Lazio mi auguro ritrovi da questa sera quella compattezza difensiva che tutto si può dire, ma tranne il fatto che l'abbia dimostrata sia a Lecce che a Genoa, è una Lazio che ha preso tre gol in due partite, con Lecce e Genoa con tutto il rispetto per queste due squadre e vi ricordo che la difesa della Lazio è la seconda miglior difesa del campionato scorso. Come mi approccio a questa partita? Con la consapevolezza che ci sono grandi probabilità di tornare a Roma con zero punti e andare alla pausa di campionato con zero punti è pesante, ma questa pausa di campionato potrebbe rappresentare anche un modo per staccare un attimino e per soprattutto riportare al regime la condizione dei calciatori, soprattutto degli ultimi arrivati. Però concentriamoci su questa partita, io lo ribadisco, gara difficile, impegnativa, ostica, anche proibitiva, ma io non mi sento, perché devo partire sconfitto? Cioè dove stanno le basi del tifare una squadra se parti dal presupposto, come leggo da tante parti, che sei sconfitto? È una gara difficilissima, le quote, parlano chiaro, Napoli data 1,55, cioè a 1,55 vengono date le partite facili, proprio quelle facili facili. Ecco, proviamo magari a ribaltare a livello quantomeno di impatto morale al match questa situazione. Napoli è assolutamente di un'altra categoria, squadra fortissima, non si può di niente al Napoli. Però insomma, andiamocela un attimino a giocare. Ecco, cerchiamo quantomeno di andarcela a giocare. Sarri lo scorso anno ha dimostrato che è in grado di imbrigliare tatticamente le grandi squadre. Vi ricordo che la Lazio l'anno scorso tra andata e ritorno ha battuto tutte le più forti del campionato. L'impalcatura della Lazio è quella. È quella. Quindi perché non avere la speranza di poter andare a Napoli a giocarci la nostra partita? Ripeto, consapevolezza di andare ad affrontare uno squadrone, consapevolezza di giocare contro i campioni d'Italia, di consapevolezza di andare lì in un ambiente assolutamente ostico. Però ragazzi, siamo la Lazio. Andiamocela a giocare a Napoli. Facciamo tutto quello che possiamo. Magari proprio questa partita può svegliare nella testa dei nostri calciatori e può dare la scossa nella testa dei nostri giocatori. Perché qui è facile essere concentrati, stare a mille nell'approccio al match. Ecco, vediamo un pochino quello che succede. Quindi un attimino di serenità, voglio provare in quest'ora di pranzo a trasmettervela. Vediamo un pochino cosa succede. Concentrati e vi do appuntamento per il video delle 15. Ciao a tutti ragazzi e di nuovo buon pranzo a tutti voi. Grazie a tutti.